Buongiorno, eccoci anche stamattina nell'edicola di Otto Channel. Andiamo a vedere subito i giornali, partendo dal Roma. L'apertura allarme vaccini, De Luca ad Arcuri, subito le dosi per i richiami, ci tuteleremo in ogni sede. Ma intanto secondo l'Istituto Demoscopica, Campania, peggiore sanità d'Italia. Scuola, sei infetti a Napoli. E poi si parla dei crolli in città, quattro casi in 14 giorni. Piazza Cavour procura al lavoro, sangue a Piazza Bellini, nove anni a Cagiazzo, accoltellò il rivale. Droga per il clan, assedio al Rione, Blitz in via Tertulliano. L'appello da Giuliano, serve sangue B positivo per salvare il piccolo Max che deve operarsi al cuore. Chi può vada al Monaldi. In sottotestata ancora cronaca, spari al bar dopo l'omicidio. Il pentito Stanica svela la faida di Bagnoli e accuse i d'ausilio. E il Napoli è ufficiale Milik al Marsiglia. Intanto i tifosi abbracciano insigne troppe critiche per il capitano dopo il rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juve. Questa era la prima del Roma. Adesso prendiamo la Repubblica Nazionale. E allora, l'apertura, il monito della BCE, basta ritardi sul recovery. La Presidente Lagarde mette in guardia gli stati membri. Gualtieri, non c'è un caso Italia, miglioreremo il piano come è stato chiesto a tutti. Conte intanto cede sui servizi, la delega al suo consigliere diplomatico Benassi. Crisi, si complica l'operazione responsabili e il PD vede le elezioni. In America, la strategia della Casa Bianca, Biden, poteri di guerra per sconfiggere il Covid. E ancora a tavola con il boss, ritorniamo in Italia, indagato l'Udc Cesa, inchiesta sui rapporti politica drangheta. Terremoto nell'Udc, nel partito di centro, che tra l'altro è tra quei partiti che dovrebbero ancora appoggiare conto. Ecco perché si complica l'operazione responsabili. Andiamo all'interno di Repubblica. L'allarme della BCE, bisogna accelerare sul recovery plan. La Presidente Lagarde va reso operativo il piano senza ritardi e fra le righe avverte il governo Conte. I fondi servono per il virus, non per risolvere le crisi politiche. Roma rassicura Bruxelles sullo scostamento di bilancio. L'aumento del deficit sarà soltanto temporaneo. L'intervista al Ministro dell'Economia, Gualtieri, non esiste un caso Italia, ma faremo più riforme. Il nostro paese è del gruppo di 16 che hanno già presentato molti elementi alla Commissione, dice Gualtieri. Poi ci sono una serie di virgolettati, a cominciare appunto da quello di Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea. La pandemia è probabile che porti ad una contrazione della crescita nel quarto trimestre, che si trascinerà anche nei primi mesi di quest'anno. Questo era appunto il focus sull'SOS Economia. Poi dicevamo politica e criminalità. Blitz anti-Ndrangheta ha indagato l'Udici Cesa. Il secondo IPM è il terminale dei boss crotonesi. Un pranzo con gli uomini del clan intercettato dalla DIA. Mette nei guai il leader centrista. Immediate dimissioni dalla segreteria. L'operazione ha portato all'arresto di 48 persone, ipotesi di reato, associazione a delinquere di stampo mafioso. In questa inchiesta per la procura di Catanzaro Centrale, la figura di Antonio Gallo, imprenditore in grado di tenere i rapporti con i boss. L'intervista con il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Gratteri, le cosche bussano e la politica risponde. Sempre più reati riguardano il potere politico ed economico e delinquere. E ancora troppo conveniente, secondo Nicola Gratteri, della procura della Repubblica di Catanzaro. Proseguendo ancora, l'esecutivo ha la prova. La destra sale al colle da Mattarella e chiede elezioni, ma non ci stanno tutti. Salvini, Meloni e Tagliani, Conte, Cadrà e non ci sono alternative alle urne. Toti, Carfagna e Giorgetti invece sono per un governo istituzionale. I vertici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sperano nella spallata. Già mercoledì sono stati un'ora da Mattarella. Andiamo ancora avanti. Pfizer ancora ritardi, pronti a denunciarli per attentato alla salute. Le ipotesi al vaglio dell'avvocatura. Azione penale a Roma o causa civile a Bruxelles. Arcuri, per i tagli siamo passati da 80.000 a 28.000 somministrazioni al giorno. E quindi c'è l'allarme ritardi per quanto riguarda le nuove somministrazioni di vaccini. Il vertice dei leader europei, siamo preoccupati, anche l'Unione Europea ha colori, test e quarantena in zona rossa. Von der Leyen chiudere non serve, scontro sul passaporto per gli immunizzati. E poi qui c'è la guida su quello che è consentito o non è consentito fare. Ricongiungimenti solo con il partner, esclusi i fidanzati. Chi è consentito o meno vedere fuori regione nelle seconde case si può andare anche senza parenti. Ci sono dieci punti da approfondire come va de mecum per le prossime settimane. Proseguendo ancora la cronaca, Martina fuggiva da uno stupro, annullate le assoluzioni dalla Cassazione, nuovo processo per i ragazzi con cui era in albergo. Il padre lancia l'allarme, fate presto o arriverà la prescrizione. Martina Rossi aveva 20 anni nel 2011 quando morì precipitando dal sesto piano di un albergo di Palma de Mallorca, dove era in vacanza con le amiche, nella stanza con lei c'erano due ragazzi. E poi l'altra notizia di cronaca di ieri, Antonella morta per una sfida su TikTok. La sorellina era il gioco dell'asfissia. Palermo a dieci anni si è stretta una cinta intorno al collo per una prova di resistenza. Aveva detto vado a fare la doccia, la più piccola l'ha trovata in bagno svenuta con il cellulare che la riprendeva. Inchiesta per istigazione al suicidio. Storia agghiacciante questa che arriva da Palermo. E con la cronaca chiudiamo. Repubblica nazionale, andiamo adesso su Repubblica Napoli. Scuola, ripartiamo, le elementari in festa, ma la regione contro il Tar e l'ASL diffonde i dati. Sei alunni contagiati. Poi l'emergenza coronavirus, vaccini, De Luca attacca Pfizer e Arcuri. Il dossier in Campania, la sanità bocciata. Intervista con il commissario di Bagnoli, Floro Flores, fondi a Bagnoli dal recovery. E aggiunge della rimozione della colmata. Si può discutere. All'interno di Repubblica Napoli suona la campanella per le quarte e le quinte. Ed è festa. Si, ripartiamo. Zainetti e palloncini. Si torna dopo tre mesi in aula con ingressi scaglionati, turnazioni e spazi di sicurezza. Alcune scuole chiuse ai quartieri. Una classe a pianura. Va meglio al Vomero e a Chiaia. I prof dicono bentornati ai ragazzi. E intanto la regione attacca il Tar, però, e dà il numero dei contagi. Sei alunni a Napoli contagiati in 24 ore. Fortini, l'assessore regionale, sbagliato a rivolgersi al tribunale. Serve il primato della politica. Se c'è un'impennata responsabilità ascritta a un organo giudiziario. Ma con il servizio, direi di fare un attimo il punto su quello che abbiamo visto anche prima, cioè sull'allarme ritardi per le nuove somministrazioni del vaccino con De Luca, che è anche pronto a fare ricorso e attacca la Pfizer e Arcuri. Vediamo. Con 1.215 casi su 15.473 tamponi, la curva dei contagi in Campania risale, arrivando al 7,85% rispetto al 6,3 di ieri. Si registrano altri 40 morti. Sul fronte ai vaccini, la buona notizia è che abbiamo ripreso la campagna di immunizzazione. Alla mostra d'oltremare sono stati sottoposti alla seconda dose di richiamo circa 104 operatori sanitari. Un netto rallentamento anche all'Asda Partenopea, che ha messo da parte circa 15.000 dosi per aumentare la riserva destinata ai richiami. Le notizie che giungono da Roma, infatti, non sono confortanti. E' allarme sul nuovo rifornimento in arrivo da lunedì. Le dosi assegnate alla campagna saranno dimezzate. Lo denuncia il governatore Vincenzo De Luca, che ritiene inaccettabile quanto accade. L'unico criterio di distribuzione deve essere un vaccino per ogni cittadino, scrive De Luca, che annuncia iniziative a tutela della regione, che saranno adottate in ogni sede. A questo si aggiunge la doccia fredda arrivata dalla pubblicazione del sondaggio demoscopica sui sistemi sanitari, che pone la campagna all'ultimo posto per efficienza, in base ad otto indicatori. Non solo, è anche il sistema che costa di più ai contribuenti per indennità e rimborsi alle figure manageriali, mentre continua l'emorragia di pazienti con i cosiddetti viaggi della speranza, il dato della mobilità passiva di oltre 78 mila ricoveri fuori regione, che costa alla campagna quasi 453 milioni di euro. Il mattino ora, il mattino nazionale, l'apertura Conte sempre più in bilico, CES ha indagato in un'inchiesta di Indrangheta, battuta d'arresto nell'operazione Costruttori, e poi PD si allarga il fronte di chi rivuole Italia Viva, e quello che abbiamo appena visto, taglia i vaccini per tre settimane l'ira di De Luca, e il governatore vanno garantiti i richiami, AstraZeneca si accelera via libera già il 27. Voglio però stare sulla cronaca, perché c'è un'ultima ora della Guardia di Finanza, davvero di pochi minuti fa, un'operazione delle fiamme gialle, mancato pagamento dell'imposta di soggiorno, sequestri sono scattati per 200 mila euro, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura della Repubblica di Napoli, che ha eseguito su disposizione del Tribunale di Napoli un decreto di sequestro preventivo di beni del valore di quasi 200 mila euro. Il provvedimento cautelare patrimoniale riguarda due società che gestiscono un noto albergo all'acquameno ad Ischia, in particolare i finanzieri della tenenza di Ischia hanno riscontrato irregolarità commesse da parte della struttura ricettiva per gli anni 2018 e 2019, il mancato appunto versamento dell'imposta di soggiorno e la conseguente mancata presentazione della dichiarazione della tassa di soggiorno. Va bene, allora adesso dal mattino sempre andiamo a vedere un po' di sport, dal mattino nazionale un po' di sport, ci attendono altre finali, Gattuso e la carica al Napoli nell'albergo di Parma dopo la sconfitta contro i bianconeri in Supercoppa, l'allenatore punta a vincere a Verone e a rafforzare il posizionamento in zona Champions, che è poi l'obiettivo stagionale. Concesso un breve break agli azzurri, oggi il ritorno in campo, Coulibaly abbiamo voglia di nuove vittorie. E poi Napoli è con Insigne, forza capitano, la moglie cita De Gregori, non avere paura di sbagliare un calcio di rigore, in passato critiche e fischi allo stadio, ma ora non va messo sotto accusa per quel rigore sbagliato. Goulam pubblica la foto con la maglia numero 24, Altafini dice tranquillo, sbagliarono anche Pelé, Diego e Baggio. Questo per quanto riguarda lo sport, il Napoli, poi dopo vediamo anche il Benevento, che stasera gioca nell'anticipo della diciannovesima al Vigorito contro il Torino. Prendiamo il mattino Napoli, adesso Galleria Vittoria, progetto da rifare, salta la prima tranche di lavori prevista a gennaio, Palazzo San Giacomo a caccia di un piano B. Scuola, primi contagi, comuni Altar, pericoloso tornare. E poi si parla del degrado di via Morelli in pieno centro, a due passi da Piazza dei Martiri, il salotto buono della città, dormitorio di Clochard nell'ex salotto della città. E poi lo scontro, no al sindaco candidato, la sinistra scarica l'ex PM con De Magistris, restano soltanto gli arancioni. Questa era la prima del mattino Napoli, adesso andiamo proprio sul mattino Benevento e troviamo Limus, scontro sulle cartelle in apertura, Mastella e Sir Luca, colpa della giunta Pepe, l'ex sindaco hanno perso cinque anni, aree fabbricabili, il Comune ha inviato 2800 atti, ha lo studio l'ipotesi di una variante al PUC. Vaccini, allarme all'ASL, richiami a rischio stop e quindi si allarga anche al sannio il problema di respiro più regionale. Volpe, abbiamo l'autonomia per una settimana. Dicevamo, giallorossi, assalto al toro, inzaghi servono punti. Possiamo andare a vedere le probabili formazioni allora di Benevento Torino in campo stasera al Vigorito alle 20.45. Tra l'altro nel Torino c'è l'esordio in panchina di Nicola che ha sostituito Giampaolo. E allora Benevento con il 4-3-2-1, Montipò tra i pali, Improta terzino, Tuia, Glick e Barba, Dabu, Ionita, Hetemai, Teio e Caprari alle spalle dell'unica punta alla Padula. Il toro dovrebbe rispondere con Sirigu tra i pali, Izzo, Lianco e Bremer in difesa, Singo, Linetti, Rincon, Luchi, Ceansaldi, Zasabelotti, la coppia d'attacco. Quindi appuntamento al Vigorito alle 20.45. Questo per quanto riguarda il mattino Benevento, vediamo anche Caserta e poi chiudiamo con Avellino e Salerno. Scuole riaperte ma subito paura di quarantene, 10.000 tamponi per genitori e docenti e per i vaccini, accelerata dell'ASL sulla fase 2. Sub a caccia di antiche condotte, si parla delle immersioni alla peschiera della reggia di Caserta e poi parcheggi e multe in dieci mesi crollati, gli incassi sono gli effetti del lockdown, in difficoltà le società di gestione e appalto delle strisce blu a pagamento. Questo per quanto riguarda Caserta. Andiamo su Avellino, ora vediamo cosa c'è sul mattino dal capoluogo Irpino. Anche qui la scuola rientro con brivido, tensioni alla perna a Lighieri per il contagio di un bimbo, classe isolata, si prosegue in presenza per le altre genitori disorientati, dopo l'ok improvviso del Tarra, quarta e quinta, ma entrano in 9 su 10. Tra un attimo approfondiamo con il servizio, troviamo poi il comune, parla Dino Preziosi, il dirigente assunto non poteva essere selezionato, sullo sfondo lo scontro sulla commissione trasparenza, il consigliere d'opposizione sul dirigente D'Agostino, procedimento penale in corso. Isochimica, è l'ora della requisitoria, ai Roma aspetta l'insediamento, oggi nuova tappa del processo a Napoli ex isochimica, anagrafe, sì ai certificati, ma restano file e disagi. Oggi è stato dato il potere di firma dal sindaco Festa a una funzionaria per scongiurare le file, il caos e gli assembramenti dei giorni scorsi. Allora facciamo il punto sul ritorno a scuola con questa classe in quarantena al Perna e sui contagi, perché ci sono altri 10 casi a San Martino Valle Caudina. Si allarga il contagio a San Martino Valle Caudina. Oggi altri 10 positivi nel comune del sindaco Pisano che per domenica ha disposto uno screening di massa con l'asla Cervinara. Aspettiamo con ansia chiaramente il lavoro dello screening di domenica, soprattutto gli esiti dei tamponi e quindi sicuramente terremo le scuole chiuse fino a martedì. La popolazione chiaramente è preoccupata in questo momento, perché puoi immaginare, insomma, numeri che si stanno moltiplicando in modo forte. Abbiamo attivato anche un servizio di assistenza alle famiglie con la protezione civile, ma anche attraverso il piano di zona con dei psicologi a supporto di questi ragazzi adolescenti. 52 complessivamente i nuovi contagiati in Irpinia non lasciano tranquilli neanche le situazioni di Nusco, 8 casi e Forino 6. In mattinata al Frangipane è deceduto un 54enne originario di Vibonati e intanto in ritorno a scuola presente il primo conto. Alla perna di Avellino si è contagiato un bimbo di terza elementare. L'asla ha disposto l'isolamento domiciliare per l'intera classe, compresi i docenti, in totale una ventina di persone. Non c'è assolutamente un problema da questo punto di vista. I contatti ovviamente ci sono in giro, perché ci sono in giro nella società e ovviamente quando si aprono le scuole potrebbero trovarsi all'interno. È inevitabile, no? L'abbiamo sempre detto, il rischio zero non esiste. C'è preoccupazione tra i genitori, ma per ora dirigente scolastico Asla non hanno ritenuto opportuno sospendere le lezioni in presenza anche per altre classi. Siamo sul mattino Salerno, ora in apertura cure Covid, fascicolo in procura. I carabinieri del Nassal Ruggi acquisiti atti sull'ospedalizzazione degli infetti e sulle vaccinazioni. L'ipotesi? Troppi ritardi nelle diagnosi ai malati. Altra fiammata nel capoluogo di Positivi, contagiato dal figlio, muore a 54 anni. E poi lo scandalo, gli affari di Squecco, ambulanza clonata e riciclaggio di soldi. L'imprenditore pagava i volontari a nero appuntamenti a Lido in orario di servizio. Emergono questi retroscena a Capaccio dopo l'arresto di Squecco. La salernitana, lo tito, convince Durmisi, il danese della Lazio è già a Salerno e chi ne può seguirlo? E ancora l'operaio morto nel cantiere fantasma scatta l'indagine. Parliamo della morte del 36enne accaduta una settimana fa a Bellizzi. E poi questa storia che arriva dagli scavi di Pestum, ruba monete dagli scavi, poi si confessa dal prete, l'anonimo ladro si pente e restituisce un sacchetto con 200 reperti. Tra un attimo vediamo anche l'approfondimento su questa storia che arriva da Pestum. Prima però voglio fare velocemente un giro sul nostro sito. Cominciando dalla sezione Campania, naturalmente, dove trovate il bollettino del Covid. 1.215 nuovi positivi, ieri 95 sintomatici, processati 15.473 tamponi. Poi vediamo cosa c'è su Napoli. La cronaca favoriva nel clan dei Casalesi 12 misure cautelari all'alba di oggi, perquisizioni e controlli in corso. si sta eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia. L'altra notizia di Napoli in primo piano è questa, ospedali nel caos, così la terza ondata non si governa, la nota della consigliera 5 Stelle Valeria Ciarambino. Andiamo proprio adesso su Salerno, Covid, focolaio in una RSA ad Albanella, 26 ospiti positivi, gli operatori contagiati sono 9. E poi l'inchiesta su Squecco, Cascello, mai avuto risposte dal Viminale, l'esponente di Forza Italia, interrogazioni inutili a ben due ministri dell'interno. Ma visto che stiamo su Salerno, direi allora di approfondire questa bella storia che arriva appunto dagli scavi di Pestum con 200 monete restituite da un ladro pentito e restituite dal prete da cui appunto il ladro si era andato a confessare. Vediamo. Ancora un'altra restituzione al Parco archeologico di Pestum. 200 monete antiche sono state fatte recapitare da un ladro pentito che dopo essersi confessato da un prete di una parrocchia del territorio salernitano ha fatto consegnare proprio tramite il sacerdote una busta con il bottino trafugato indirizzata personalmente al direttore Gabriel Zucktrigel. Materiali originali misti con falsi, ora oggetto di studio, bronzi della zecca di Pestum del III secolo a.C. fino all'età augustea, follis e frazioni di follis compresi tra la metà e la fine del IV secolo a.C. Non mancano alcuni bronzetti di Poseidonia, di Velia e di media età imperiale. Ogni tanto accadono queste restituzioni. Alcuni anni fa un signore dagli Stati Uniti ha fatto il viaggio fino a Pestum per consegnare una statuetta d'avorio che aveva preso quando era bambino qui a Pestum in vacanza. Adesso una nuova restituzione molto importante per la quantità di materiali, più di 200 monete che possono essere adesso oggetto di studio, di musealizzazione, di valorizzazione. Noi facciamo un appello a tutti che dovessero ancora avere delle cose a casa, delle cose antiche, consegnatele alle soprintendenze, al museo più vicino, ridate un pezzo di storia al vostro territorio. Sempre dal nostro sito, la sezione di Avellino, chiusura della discarica di difesa grande ad Ariano. Ecco tutte le prescrizioni, gestione post-mortem e stabilizzazione del movimento diversante dello sversatoio arianese. Approfondisce tutto Gianni Vigoroso nel suo articolo. Sempre da Avellino, ieri primo tavolo in provincia con l'ente di Palazzo Caracciolo, sindacati e amministratori locali sul recovery plan, si punti su digitalizzazione e infrastrutture. Questa è la ricetta dei sindacati che hanno incontrato Biancardi e festa. Su Benevento troviamo in apertura la cronaca, rapine in serie con pistola e bastone, condannati due giovani, rito abbreviato, 6 anni e 8 mesi ad un 21enne di Cervinara, 6 anni a un 34enne di Cepaloni. E ancora da Benevento, sempre cronaca, auto danneggiati a Paduri, identificato presunto autore, i carabinieri hanno denunciato un uomo del posto. Poi velocemente anche Caserta, nel Casertano il Covid non perdona, altri 10 morti. E poi da Cesa, quel ponte fa paura, prima o poi piangeremo vittime, appello urgente da parte del sindaco del comune Casertano. Io in chiusura vi ricordo anche le altre sezioni, a cominciare da Italia, dove in apertura troviamo le parole di Arcuri, dalla Pfizer prossima settimana 20% di dosi in meno. E anche la sezione Mondo, dove si parla anche di un'esplosione nel centro di Madrid, da almeno tre morti con lo scoppio che ha distrutto diversi piani di un edificio e ci sono stati anche sei feriti. E poi nella prima pagina è riepilogato un po' tutto con la situazione Covid, l'operazione contro il clan dei Casalesi e la chiusura della discarica di Difesa Grande. Va bene, ci fermiamo qui con l'edicola di stamattina. Grazie in regia ad Aldo Fenizia, l'appuntamento naturalmente per le 14, le 14.30 con il TG News regionale, e il TG Sport da Angelo Giuliani, una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.